Ehi, bellissima. Sai, tutta la mia famiglia è stata qui. Sì, la cosa migliore da fare in questi casi è perdere i sensi. Bel lavoro. Devo anche dirti che entrare alle partite di Nathan richiederà più tempo del normale perché la mia tetta destra farà scattare i metal detector. A quanto pare il proiettile è ancora dentro, quindi puoi spuntare una voce dalla tua lista della ragazza dei sogni. Ok, detto tra noi, tutti stanno mostrando il loro lato più coraggioso. Ma sono tutti spaventati a morte perché non possono pensare di perderti. È troppo anche solo pensarlo. Ma tanto non accadrà, vero? Il mio uomo è troppo forte per lasciare che accada. Quindi perché, perché non ci sorprendi tutti e apri quegli splendidi occhi azzurri e mi lasci senza fiato come se di saper fare apri solo quegli occhi che mi guardano come mai gli altri occhi hanno fatto. e io sarò proprio qui ad aspettare. che mi guardano come ne risstoffe